Tempo di crisi per la coppia più glamour del Jet Set, Elisabetta Canalis e George Clooney. Già messa a dura prova dal recente incontro londinese tra la ex velina e centrocampista del Milan Clarence Seedorf, la love story tra la Canalis e l'attore hollywoodiano sembra proprio che stia vivendo un momento di profonda crisi. Ipotesi avvalorata anche dall'attore che ha categoricamente smentito le voci che lo davano sul punto di fare per la seconda volta nella sua vita il grande passo del matrimonio. Secondo i soliti ben informati, Elisabetta avrebbe già un nuovo flirt all'orizzonte, ma non con il calciatore del Milan Clarence Seedorf, come affermano i tabloidi inglesi, e già smentito dai due. Si tratterebbe invece del bellissimo attore brasiliano Tiago Alves, nuovo volto della campagna pubblicitaria Martini Rosato, lo stesso marchio di cui è testimonio al mondiale anche George. Il fascino e la straordinaria bellezza dell'attore pare abbiano colpito Elisabetta al punto tale che i due si sarebbero scambiati occhiate e infuocate durante la blindatissima cena di gala al Casino Garden Galà, come rivela il sito Metropolitan Post. Grazie. Grazie. Grazie.